Una stagione, fino all'ultimo sorpasso. Scegli più Formula 1, il modo più emozionante di seguire la Ferrari. Più Formula 1, 7 canali per scegliere di essere sempre nel vivo della gara. Abbonati per avere la super offerta più Formula 1. Tutti i gran premi della stagione, a sole 200.000 lire. All'accia, le cinture di sicurezza. Domenica 12 aprile, gran premio d'Argentina. Per tenere in vita l'ultima speranza di giustizia, è tornato l'anti-eroe Spon. Una maratona di sei episodi, dedicata al guerriero dei vicoli di New York. Spon, lunedì 20 e a partire dalle 22, su Tele più Nero. Spon, lunedì 20 e a partire dalle 22, su Tele più Nero.